Svolta di meta, nei prossimi mesi inizierà a etichettare su Facebook, Instagram e Threads i contenuti generati dall'intelligenza artificiale con dei marcatori visibili. Anche quelli originati dai servizi di altre aziende tecnologiche come Google e OpenAI, la casa madre di ChatGPT. L'annuncio arriva da uno dei massimi dirigenti della società, Nick Clegg, e guarda anche ai tanti appuntamenti elettorali mondiali del 2024, dall'Europa agli Stati Uniti, in cui andranno al voto miliardi di persone, i cui primi effetti sono i deepfake, ovvero i video fasulli. Meta già etichetta i contenuti generati utilizzando i propri strumenti di intelligenza artificiale, ma una volta che il nuovo sistema sarà attivo e funzionante, farà lo stesso per le immagini create dai servizi gestite da OpenAI, Microsoft, Google, Adobe, MidJourney e Shutterstock. L'annuncio di meta è un ulteriore passo del settore tecnologico per mitigare i potenziali danni associati all'intelligenza artificiale generativa, su cui tante aziende hanno investito dominando il settore, ma non sempre riuscendo tempestivamente a controllare gli effetti collaterali negativi.